ciao a tutti i pasticcioni e bentornati nella mia cucina come state spero bene oggi condivido con voi la ricetta del mio sugo con la salsiccia è buonissimo lo preparo spessissimo soprattutto per la polenta e visto l'arrivo finalmente delle temperature fredde ho deciso di condividere con voi la ricetta inizio facendo un semplice soffritto con la cipolla le spezie poi taglio la salsiccia allora una parte io la taglio a tocchetti mentre l'altra parte le elimino il budello in modo che si sbricioli bene durante la cottura aggiungo la salsiccia al soffritto e faccio cuocere per circa 10 minuti sfumo col vino nero e dopo di che aggiungo la passata di pomodoro e faccio cuocere per circa un'ora e mezzo a fiamma molto bassa questo sugo è buonissimo dovete assolutamente provarlo ciao e alla prossima ricetta